Tantissimi piccoli turisti hanno invaso lo spazio di Modena Fiere lo scorso weekend in occasione della diciottesima edizione di Children's Tour, il salone delle vacanze 014. Non sono mancate anche quest'anno le proposte del Centro Sportivo Italiano, Comitato di Modena, presente in fiera per la decima volta insieme al marchio Opla per promuovere tutti i progetti sportivi, gli eventi e le manifestazioni, le attività turistiche e di animazione rivolte ai bambini e ai ragazzi da 0 a 14 anni. 5 in assoluto le novità di questa edizione 2016. In primis il nuovo progetto Vacanze e Dimagrimento Eco che promuove percorsi settimanali di dimagrimento in Valle d'Aosta e a Fanano, seguiti da un consulente nutrizionale. CSI fa rima con benessere e movimento, non poteva quindi mancare la novità della primavera, per vivere il centro storico di Modena come una palestra a cielo aperto, con la nuovissima app Muovimo. Marzo è tempo di prenotazione dei centri estivi per le mamme e i papà che stanno già organizzando l'estate dei propri bambini. E quindi torna anche quest'anno l'offerta degli Epic Camp CSI, che a Modena si terranno presso il centro ludico motorio Opla, presente anche quest'anno a Children's Tour, con un ampio spazio dove i bambini da 0 a 3 anni si sono divertiti giocando in tutta sicurezza. Sempre in tema di camp estivi, ma questa volta multisport, ecco gli Sporting Camp che si terranno la prossima estate nell'Appennino Modenese, con anche la variante Scout Mode dedicato a tutti i ragazzi stranieri che desiderano passare una fantastica vacanza nel nostro territorio. Non ultimo, in tema di novità CSI, il progetto di educazione stradale insieme a Budget Autonoleggio per insegnare ai più piccini le principali regole di sicurezza stradale assistiti dagli agenti della Polizia Municipale e Stradale di Modena a bordo di Mini Fiat 500 elettriche. Come tutti gli anni, infine, anche l'arena spettacoli del Salone a Modena Fiere è stata letteralmente animata da tantissime piccoli e grandi ballerine in occasione della settima rassegna di danza CSI Piroettando, che ha chiamato a raccolta le scuole di danza classica e moderna di Modena e provincia. Anche quest'anno dal CSI una ricca proposta quindi in tema di sport, educazione, movimento, benessere e divertimento per grandi e piccini. Grazie a tutti!